Inutile sfuggire, non si sfugge, cioè o almeno alle volte non si sfugge, come in questo caso. Come nel caso di Antonino Spinalbese e Luca Onestini, tra loro sappiamo che non scorre buon sangue e infatti, infatti, oh, è evidente, tra di loro, tra Antonino Spinalbese e Luca Onestini, le cose non vanno, c'è poco da fare. Comunque appena rientrato nella casa, dopo essersi sottoposto a un piccolo intervento, l'hairstylist ha commentato i comportamenti di alcuni, dei suoi compagni di viaggio e, in mezzo a loro, chi c'era? Onestini. Spinalbese, in pratica, ha avuto da ridire per il comportamento con Nikita Pelison, dicendo «Ma sì, ma è un furbetto lui, che posso dire di questo ragazzo? Luca ha cercato di sminuire Nikita, ma in realtà ha fatto una pessima figura. E questo penso che sia palese, lo trovo immaturo e lo trovo anche superficiale a dire la verità. Per me non è altro che un ragazzino sciocco». Parole che non sono piaciute sia all'interno della casa a Luca Onestini che all'esterno del GFVIP perché il fratello del modello, Gianmarco, che ha risposto a tono a Spinalbese sui social «Ad offendere sono capaci tutti, caro Antonino, ma ad usare il cervello solo chi ce l'ha. E tu non ce l'hai». Nelle ultime ore è andato in scena un altro scontro tra i due che, ovviamente, non è sfuggito agli occhi del GFVIP e dei tanti appassionati che sui social hanno postato dei video sulla lite. Tutto è iniziato quando Onestini parlava in veranda con altri vipponi della cena nella baita avuta in precedenza con Nikita Pelison, Antonella Fiordelisi e Attilio Romita. Si è detto molto infastidito anche dallo scontro avuto poi con l'influencer Triestina e spiegava il suo punto di vista. Accanto a lui c'era Antonino Spinalbese, che scambiava un parere con Andrea Maestrelli e Luca Onestini pare aver sentito qualcosa che non gli sarebbe piaciuto. Quindi avrebbe chiesto spiegazioni all'ex di Belen e ne scaturito un confronto acceso. Luca Onestini ha mantenuto la sua linea ed è convinto che stessero confabolando qualcosa. Stando al suo pensiero avrebbe detto qualcosa che esulava la conversazione, ma entrambi hanno negato, sostenendo si trattasse di altro. Ho detto solo, cosa devo fare? Sbrocco stasera? È la spiegazione di Antonino Spinalbese mentre Luca Onestini gli ha chiesto il perché di questa frase. Luca hai la coda di paglia? Non mi sto riferendo a te. Quindi è intervenuto Andrea Maestrelli e ha provato a dire che effettivamente il discorso verteva su altre questioni. Secondo te io mi metterei mai a parlare di te nella mia vita? Sono agitato e sai perché? Perché non ho proprio interesse di essere associato a te o accostato a te in una clip. Quindi, successivamente Antonino Spinalbese si è scagliato in zona biliardo contro Luca Onestini e parlando con gli altri vipponi non gli ha risparmiato critiche pesanti definendolo co. È un buffone e basta. Si capisce da come si veste, come si muove e come si siede, ha detto successivamente Antonino Spiambis.